Tra le iniziative collaterali di questa Befana a volante, anche la collaborazione con la Promo Service, che avete fatto allora in questa giornata? Speriamo di avere agliettato i bambini facendogli fare prima un percorso pedonale di educazione stradale che abbiamo allestito all'interno della scuola che ha con le strisce in terra, cartelli, segnalatica luminosa e poi gli abbiamo fatti fare un giro in queste auto da gara, da competizione che penso sia un'iniziativa importante, chiaramente beneficenza per questa bella giornata. Speriamo che siano divertiti, noi ci abbiamo messo a tutta. Ecco, si apre un altro anno per la vostra scuderia, un anno penso denso di impegni. Sì, siamo un po' all'inizio, però comunque stiamo cercando di partire, di fare il meglio di quello che possiamo fare in quest'annata. Abbiamo diversi piloti che faranno scarte, che faranno fuoristrada, che fanno rally e quindi cercheremo di aiutarli in questa stagione. Intanto ci si allena così con i più piccoli, Guidare Sicuro ha dato questo contributo dal punto di vista della sicurezza stradale proprio nel parco della scuola qui di Civitella. Sì, noi in collaborazione con la scuderia, con la Promo Service, visto che collaboriamo comunque continuamente, abbiamo allestito questo percorso di educazione stradale soprattutto, quindi un percorso pedonale perché non avevamo spazi per metterci dei veicoli naturalmente, quindi abbiamo fatto pedonale per far sì che i bambini inizino comunque a capire quelli che sono i principi fondamentali della sicurezza stradale. Gli abbiamo insegnato i cartelli, la principale segnaletica, sia quella orizzontale che quella verticale, a riconoscere i vari cartelli di pericolo, insomma le cose fondamentali per i ragazzi che si approssimeranno poi a nuovi utenti della strada. Qui c'è un piccolo utente, intanto gli chiedo come si chiama. Michael. E quanti anni hai? Otto. L'hai già fatto il percorso? Sì. Sei già anche salito in macchina? Sì. Qual è stata la cosa che ti è piaciuta di più? La 500. Senti, dalla Befana che cosa ti aspetti? Che ti deve portare la Befana? La calza. Con dentro il carbone, no? No. Che cosa allora? Kik.